E come ogni anno, Buon Natale! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te! Buon Natale! Buon Natale a tutti ragazzi! Da me e dalla piccola Sherie! Dillo Buon Natale! Buon Natale a tutti! Scusa amore! Buon Natale! Come state? Che state facendo? Cosa avete trovato? Sotto l'albero! Bene, io ho trovato come sempre l'amore di tutti voi nelle vostre letterine, nelle vostre mail. Grazie, infinitamente grazie dei tanti tanti auguri che mi avete mandato, dell'affetto che mi riservate. Devo dire che questo per me è stato un anno super soddisfacente dal punto di vista del fattore umano ed è stato proprio il più grande regalo che io abbia potuto trovare sotto l'albero. E di questo vi ringrazio perché questo regalo me lo avete fatto tutti voi, tu, 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 ognuno di voi. Quindi auguri di vero cuore a voi, alle vostre famiglie, che sia un Natale sereno, pieno di amore, fatto di cose essenziali. Ragazzi, io vi esorto veramente a ritrovare l'essenzialità della vita, le cose importanti, a non perderci in mille inutilità e a ritrovare in primis noi stessi, quello che ci piace di noi, quello che amiamo della nostra persona, quello che ci piace fare, il piacere di valorizzarci. Ognuno di noi è talmente bello e talmente peculiare che è un tesoro in essere. Quindi riscopriamo il tesoro in noi stessi per poterci donare agli altri in pompa magna e doniamoci agli altri. Come sapete io ho fatto della mia vita la condivisione, la condivisione del, non soltanto nel settore artistico, che è il mio lavoro, ma con il mio canale Umbretta e il mio canale 2 Corina K insieme a Gabriele, la condivisione di quelli che sono altri momenti della mia vita. Perché credo molto che internet debba servire anche nel far vedere la normalità della vita di persone che appaiono certe volte così perfette al di là di un teleschermo. Voi in questi anni avete vissuto con me dolori, delusioni, successi, cose belle, cose della vita di tutti i giorni, la crescita di Enzo, l'evoluzione del mio matrimonio, l'evoluzione della mia carriera dal punto di vista del libro, ma anche tante batoste di cui oggi non voglio parlare. Oggi voglio ricordare quello che ci sta dietro le batoste, le cose belle che hanno accompagnato la mia vita e che purtroppo ho perduto e le cose belle che grazie a Dio ho mantenuto nella mia vita. E tra queste cose belle ci siete voi. Quindi valorizzate sempre ciò che di bello c'è nella vostra vita, ma soprattutto valorizzate voi stessi. Come ogni anno, il mio pensiero corre da tutte quelle persone che invece in questo momento stanno affrontando una difficoltà. Una difficoltà emotiva, una difficoltà di salute, una difficoltà lavorativa. Tutte le persone che magari mi stanno guardando da un letto di ospedale o da una casa vuota, senza amici, senza parenti, voi avete voi stessi in questo momento. Lottate per voi stessi, qualunque sia la condizione in cui versate. Lottate per voi stessi, perché finché avrete voi stessi non sarete mai da soli e la speranza non sarà mai finita. Lottate con tutte le vostre energie. E io vi mando ogni positività, ogni bene dal mio cuore per tutti voi. Vi sono vicina, vi auguro un buon Natale, un buon Natale del cuore. E se siete soli, state con me, guardate i miei video, passate un po' di tempo insieme a me, scrivetemi, sarò lieta di rispondervi. Se invece state lottando con un qualcosa di più grande, una malattia, qualcosa di veramente provante, abbiate fiducia. Abbiate fiducia in voi stessi in primis, ma abbiate fiducia nei vostri medici, abbiate fiducia nella vita. Io sono certa e vi auguro che tutto si risolva presto e per il meglio. Pensiamo anche a chi in questo Natale non ha più una casa, a chi è stato vittima di una guerra che non ha voluto, a chi sta combattendo per una guerra voluta da altri, a tutti quei ragazzi che invece di essere con le loro famiglie, invece sono buttati da qualche parte qui nel mondo, purtroppo in Europa. A tutti io auguro di svegliarci, di ritrovare, come vi dicevo all'inizio del video, il vero senso della vita, una pace che non deve essere soltanto esterna, ma soprattutto interiore. La consapevolezza che il denaro non regala l'immortalità e non regala la felicità e che molto spesso noi ci prendiamo brighe per glorie che non sono neanche le nostre e per interessi che non sono neanche i nostri e che non ci faranno né più ricchi né più longevi. Riscopriamo i veri valori ragazzi e questo è il dono che vorrei che ognuno di voi trovasse sotto l'albero di Natale quest'anno. Quindi adesso basta cose serie, allietiamo gli animi, andiamoci a mangiare una bella fetta di panettone. Che gusto l'avete mangiato il panettone quest'anno? Pistacchio, frutti di bosco, cocco, ce n'è cioccolato, ce n'è di ogni tipo. Io di là ho un buon panettone del cioccolato che mi aspetta. Quindi auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, ai vostri cani, ai vostri pelosetti di ogni tipo. Perché cani? Ai vostri pelosetti di ogni tipo. Auguri, auguri a tutti. A tutti voi, alle vostre famiglie, buon Natale, sereno Natale, gioioso Natale. Auguri, vi voglio un mondo di bene e grazie per avermi ospitato anche a Natale nelle vostre case. Da Umbretta e da Arte per te è tutto. Buon Natale amici, alla prossima volta. Ciao!